Nonostante la diffida di pago, Katia Ricciarelli non ha imparato la lezione e continua a sparlare di Miriana Trevisan dentro la casa del grande, fratello VIP. E così, chiacchierando con Soleil, ha sfornato il nuovo scivolone. Soleil ha affermato che Miriana, dopo Biaggio, si sta avvicinando ad un altro concorrente del GF VIP. Queste le sue parole. Adesso si sta avvicinando a Barù. E un numero come tanti ha aggiunto Katia Ricciarelli. Poi, l'ex moglie di Pippo Baudo si è coperta il microfono con le mani. Mamma mia, speriamo che vada via. Cercando di eludere la sua voce nella speranza di non essere stata ascoltata. Nonostante la diffida, perché Katia lo sa. La cantante continua a parlare male della Trevisan, offendendola prima come madre e ora come donna. Senza parole. Tanti i commenti contro queste esternazioni di Katia contro Miriana. Katia e Soleil dando nuovamente della troia a Miriana. Ma Katia ha capito che è stata diffidata o no? Voi cosa ne pensate di queste parole di Katia? Grazie. Grazie.